Buonasera, benvenuti a questa puntata di Instant Book, idee e scritture per il futuro. Abbiamo come ospite Alessandro Lattarulo, poeta e ricercatore barese, diciamo in via di affermarsi nell'orizzonte delle scritture. Alessandro, noi siamo più o meno coetanei e questa è, come dire, una delle caratteristiche di questa trasmissione. Io tendo a invitare la nostra generazione o quella che viene subito dopo di noi per capire un po' come circolano le idee all'interno di questi due consessi. Tu hai pubblicato due lavori di poesia, Il veliero dell'anima con Progedit nel 2007 e poi hai pubblicato D'anima e di vita con Montedit nel 2005. Ma stai anche lavorando come critico a un lavoro su Montale, ti stai producendo. Sì, questo su Montale, tutto nasce per la verità da una definizione che ho trovato molto interessante e molto stimolante. Ricordiamo brevemente che Montale, comunque uno degli orgogli italiani, premio Nobel per la letteratura nel 1975, mi farebbe piacere dire anche quali sono state le mie motivazioni di avvicinamento alla poesia leggendo queste due righe tratte da un articolo di Montale che era, dovevo inserirmi in una tradizione viva, un articolo del 1955 uscito all'epoca nella fiera letteraria. Montale all'epoca scrisse Nessuno scriverebbe versi se il problema fosse quello di farsi capire. Il problema è di far capire quel quid al quale le parole da sole non arrivano. Ecco, la poesia è questo paradosso. La poesia è un tentare di comunicare, però in maniera differente da quanto lo si farebbe attraverso la narrativa. Ecco, il dispiegamento della parola che troviamo in un romanzo. La poesia vive di questo paradosso, in fondo, perché da un lato vuole trascendere il linguaggio della comunicazione, utilizza dei codici linguistici diversi da quelli della narrativa, e vuole però tuttavia, pur trascendendo questo codice, vuole comunicare qualche cosa. Impiega parole, però tenta di esprimere un po' di più di ciò che queste parole sono in grado di dire, di affermare. Dietro la poesia, dietro... Ecco, Alessandro... C'è un sentimento, forse. Ecco, c'è un sentimento e c'è, come diceva Alda Merini, anche una oralità, cioè un approccio non soltanto verbale, poi rischia anche di essere verboso come in parecchia narrativa. Penso a tanta narrativa molto venduta nel nostro paese, ma un approccio orale, nel senso di qualcosa che è come se la parola fosse masticabile. Questa è l'idea che ho io della poesia, ed è un'idea che mi viene dalla lettura della poesia più che dalla scrittura in versi, e dall'ascolto anche della poesia recitata appunto dalla Merini, come da altri grandi poeti che si sono cimentati. Ci leggi qualcosa di tuo a questo punto? Volentieri. Questa è una delle mie prime poesie a cui sono particolarmente affezionato, è contenuta nella prima antologia, D'Anima e di Vita, quella del 2005, e si intitola Dalla Ferritoia. Si riduce al bagliore di una stella, il quadro che da questa ferritoia dipingo con la mente, nello specchio del lago dove si tuffa l'immobile quiete di un silenzio doroso. Condannato in una torre di solitudine dove la parola rimbalza sulle mura che tragiche mi dividono dai contorni di nubi evaporate con un inchino al sole, discuto con il mio fantasma e osservo ciò che la vista concede con rapsodiche pennellate che le mani riproducono illuse da questa feritoia, da questa galera, dove la mia ferita combatte, ignota a tutti. Bravo. Vabbè, insomma, questo ti ringrazio del complimento. Sì, in fondo, vedi, quello che a me farebbe piacere poter dire, poter anche comunicare ai telespettatori, è questo. La poesia, in fondo, io la vedo come una parte di Alessandro, uno dei tanti Alessandri che si combattono, e che quasi si offre come contrappasso a quell'Alessandro che troppo spesso viene accusato, bonariamente da amici, conoscenti, di essere eccessivamente prolisso, ad esempio nei lavori scientifici, anche su Facebook. Sì, quello è un attacco che ci rivolgono in tanti, quello di essere, diciamo, vittime della pedanteria del ricercatore. Ecco, però la poesia ha questo vantaggio, vuole essere una sintesi, però una sintesi non quella banale, mi permetto di dire, del messaggino, ecco, della messaggistica telefonica. È un qualche cosa di diverso, perché c'è anche poi il gusto di una ricerca dell'estetica, in parte, il gusto di poter trovare attraverso la parola una sfida per poter esprimere con una parola quel qualcosa che anche il lettore possa recepire e sentire come proprio. Sì, nell'immediatezza anche della comunicazione stessa. Alessandro, di poesia in Italia si parla poco, perché poche sono le trasmissioni televisive, diciamo, dedicate al libro. Figuriamoci poi alla poesia che è vista come un genere, e già su questo potremmo aprire un dibattito, perché in realtà la poesia è piena di genere, nasce anche così, con una diversificazione interna. Ma si parla poco al di fuori del mondo accademico. Io vorrei offrire ai telespettatori, soprattutto a quelli che seguono questa trasmissione, per avere delle indicazioni di lettura e di lettura critica, qualche qualcosa, qualche nome, qualche rivista dedicata alla poesia. Sì, a me fa piacere molto sottolineare, anche perché io ne sono membro da alcuni anni, ad esempio il Convivio. È un'accademia internazionale che viene gestita dal professor Manitta, Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, ed è una grande esperienza. È una rivista cartacea. È una rivista cartacea, esiste un sito, ma soprattutto è una grande esperienza legata dal professor Manitta e da sua moglie, la professoressa Conti, che nel corso degli anni riunisce puntualmente, in occasione dei vari premi che questa rivista indice, tantissimi poeti, aspiranti poeti, naturalmente noi non possiamo considerarci dei professionisti veri e propri della poesia, perché questo è un giudizio che aspetterebbe semmai al lettore, ma riunisce... E alla critica. Alla critica, ma riunisce tantissimi aspiranti poeti, dicevo, da tutto il mondo. Alessandro, una domanda invece sui temi della poesia contemporanea. Io ho l'impressione che la nostra poesia diventi sempre meno civile, civile nel senso di sempre meno politica, non nel senso di poesia incivile. E quindi una poesia che in qualche misura si richiami un po' a un'ortodossia che è stata già messa in discussione, quindi è come se la poesia torni indietro, torni un po' su se stessa, cioè si ritorca un po' su se stessa e che non riesca a partorire invece quel quid che in realtà non è presente anche nella narrativa, perché fa il paio con quelli che sono i contenuti della narrativa italiana e contemporanea. Ma se vedi, questo è un problema, secondo me, che tu giustamente hai messo in luce e che si riflette in questa tendenza da un lato alla ricerca quasi di questa continua sincope nella comunicazione e che quindi perde la possibilità, perde l'opportunità di comunicare un qualche cosa che non può essere ridotto allo slogan, alla parola d'effetto. D'altro canto esiste nella poesia, questo è un altro rischio che la tua domanda sottintende tutto sommato, questa ricerca dell'estetica che potrebbe diventare fine a se stessa e quindi costringere quasi l'autore a ricercare il bello senza riempire di contenuti e di contenuti forti, di contenuti civili, quello che invece è un messaggio che comunque non può, a mio modo di vedere, non essere aderente alla realtà. Certo. Io penso che forse l'ultimo poeta civile italiano Arbasino con rap, dove recupera in qualche misura anche il linguaggio di questi gruppi giovanili che non a caso quando scrivono dicono di scrivere metriche e di cantare metriche, quindi c'è questo ritorno veramente al classico. Ecco, lui ha fatto forse un'operazione civile, tuttavia registrando una difficoltà, quella di non riuscire a fare scuola. Cioè io temo che voi come autori di poesie e come poeti, proprio perché vivete un po' all'interno di una nicchia, abbiate questo tipo di difficoltà. Ma oggi è forse venuto meno proprio il concetto stesso di scuola, l'essere allievo di qualcuno, seguirne le orme all'inizio, poi naturalmente emancipandosi con la maturità letteraria, scientifica. Ma proprio a questo proposito, Alessandro, tu sei un poeta barese, sei un poeta pugliese, un poeta meridionale. Hai contatti con altri autori, tuoi conterranei? Sì, con qualcuno sì. Anche se poi, dobbiamo anche dire, noi forse come generazione un po' più giovane rispetto ad altri, utilizzando questi famosi social network come Facebook, le email e tutto quello che la comunicazione, intesa come comunicazione, spesso telecomunicazione, dà la possibilità di mettere in campo, ci consente di allargare questo spettro e di essere in contatto con persone un po' in tutta Italia e anche al di fuori di essa. Io ho tanti amici, poeti, autori di varie antologie in varie parti d'Italia e poi ci sono esperimenti, come quello che dicevamo prima, questo dell'Accademia e il Convivio, che attraverso dei premi sedimentatisi negli anni danno la possibilità in queste specie poi di vere e proprie convention che si registrano ogni anno di potersi incontrare, poter scambiare qualche impressione, leggere con un po' più di attenzione magari anche le opere degli altri e quindi avere un interscambio che è sempre fruttuoso e sempre positivo. E crea connessioni di reti. Chiudiamo qui la prima parte di questa puntata a tra poco. Grazie.